Ciao a tutti fratelli marziali, sono Marco Rastol, siamo in compagnia di Cristian e vi diamo il benvenuto su KenCashinTV. Allora fratelli marziali, oggi parliamo delle leve articolari, nello specifico vediamo che cosa intendo quando dico che le leve articolari devono funzionare sempre. Facciamo una breve analisi e partiamo proprio dall'inizio, che cosa vuol dire leva articolare? Le leve articolari sono delle tecniche che consentono a noi, si spera, di dislocare o rompere le articolazioni dell'avversario. È chiaro che si tratta di tecniche pericolosissime, facciamo arti marziali, lo sappiamo. Negli sport da combattimento si cerca di far cedere l'avversario e portarlo alla resa, anche se poi ragazzi, l'infortunio succede sempre, ma succede in qualsiasi sport. Detto ciò ragazzi, leva articolare, lo dice il termine stesso, bisogna applicare una leva all'articolazione. Ma facciamo un esempio, prendiamo l'articolazione di Christian, l'articolazione del gomito, non te la rompo, se c'è l'altro, non c'è problema. Le articolazioni sono fatte per muoversi entro un certo range. Prendendo il gomito, ci abbiamo da qui fino alla massima, qui, apertura e oltre, non può andare perché non è tipo il penipotto, non è che gira tipo il contrario. No, arriviamo al massimo. Che cosa succede se io qui forzo nell'andare al massimo? Guardate qua, faccio uno. Forzo, spingendo l'energia in basso, l'energia che io metto qui viene trasferita sulla spalla. Quindi lui è stato costretto da qua ad abbassare la spalla perché chiaramente il gomito non si può piegare ancora. Quindi che cosa succede? Piega il gomito, arriva al massimo e inizia la spalla. Se io adesso continuo e vado qua giù, continuo ancora, vedete? La spalla non ce la fa più e Christian si inizia a piegare in maniera inconscia proprio per agevolare il fatto che sta sentendo l'articolazione sotto sforzo, sotto stress. Quindi che cosa succede quando noi facciamo una leva? Tendenzialmente l'energia che io trasmetto la vado a trasferire anello dopo anello, in un certo senso, da un'articolazione alla successiva. Abbiamo visto qui ad esempio, abbiamo il gomito disteso, non si può piegare di più e va alla spalla, non può andare di più e va alla schiena. Quando non potrà andare di più Christian cadrà perché una volta che arrivi sulla zona delle anche e ginocchia non riesci più a piegarti su te stesso e sei costretto a cadere a terra. Ovviamente noi non vogliamo che l'avversario sfugga via dalla nostra leva perché se io ho intenzione di fare una leva al gomito e utilizzo solo un braccio, automaticamente l'avversario sfugge dalla leva al gomito, sia ok c'è quella della spalla e così via. Ma se voglio fare una leva al gomito sono costretto a mettere una resistenza e qui appunto faccio leva. Adesso io ho bloccato l'articolazione del gomito e quando faccio questo, vedete, Christian si alzerà piano piano sulle punte perché non ha modo più di trasferire l'energia sulla spalla e quindi piegarsi per dissipare la mia energia, ma tenta disperatamente di dissiparla verso l'alto e questo ad esempio è un buon modo per spazzare magari l'avversario perché si troverà sulle punte. Quindi l'obiettivo di qualsiasi leva è quello sempre di creare un contrasto tra un braccio e l'altro. In questo caso, siccome voglio bene a Christian, tengo fermo il gomito e utilizzo solo questa. Ma se voglio fare molto più male, utilizzo un principio che è comune a tutte le arti marziali e quando parlo io di principi parlo in linea universale, non è un parolone, ma proprio parlo di leggi della fisica. Bisogna utilizzare il principio delle forze opposte, che vuol dire questa va in basso, l'altra va in alto. Quindi quello che faccio è questo. Ok? E l'obiettivo, lo raggiungo prima rispetto a mantenere fermo, vedete quanto ci vuole prima che si alzi, e adesso invece non mantengo fermo, ma spingo in alto mentre l'altro va giù e si ritroverà molto prima ad avere l'effetto sul gomito. Ok? Quindi il principio delle forze opposte, qualsiasi leva che noi facciamo. Detto ciò, facciamo un passettino, non indietro, ma di lato. Tenete in mente tutto quello che abbiamo detto, conservato, lo andiamo un attimino a lato e definiamo il concetto di linea marziale. Immaginate la nostra abilità in generale, i nostri valori, i nostri parametri raggiosi in una linea. Più è lunga la linea, più siamo bravi, forti e belli. Se io ho una linea che è così e Cristian ce l'ha così, le misure contano. Cristian è più bravo di me, quindi in ogni caso mi batterà. Che cosa sono costretto a fare allora per mettere a segno la mia leva? Se io ad esempio voglio mettere questa leva qui, ok? Prendo da qua, faccio la classica leva qui e tengo in leva il gomito e la spalla di Cristian. Tieni rigido il braccio, guardate adesso. Ok, in ancora. Non ci riesco. Quindi se la leva non funziona quando lui è cosciente, è una leva di serie B. Mettiamola così. Di conseguenza per far funzionare la leva, tieni duro? Ok? Crea un diversivo, come ad esempio la ginocchiata su una zona molto sensibile e poi vado con la mia leva. Quindi per poter far funzionare queste leve di serie B, devo creare un diversivo. E in un certo senso, quando io creo il diversivo, accorcio la sua linea marziale, ok? Cioè rendo inabili le sue abilità marziali perché ho creato un diversivo, l'ho distratto, può essere un pugno, una testata, qualsiasi cosa ragazzi. Creano appunto un diversivo, una distrazione, un dolore da un'altra parte del corpo per mettere a frutto la nostra leva. Questo va benissimo, non è che io dico leve di serie B, ma non significa che non sono utili. Funzionano, però necessitano di un diversivo. Ma ci sono delle leve invece di serie A, che anche se Christian si impegna con tutta la sua coscienza, vedrete che funzioneranno. Allora prendiamo come esempio una presa al polso. Qui, prendimi in maniera così ancora più semplice. Prendimi in maniera, ok, normale. Adesso Christian mi ha preso al polso. Tieni alla massima potenza, prova a liberarmi in questi modi e non ce riesco, ok? Tieni alla massima potenza, quindi sei concentrato. Ehi, sta. Ok, sta giocando il passaggio. Ok, tieni ancora. Quindi Christian è focalizzato sul mantenere lì. Non sto accorciando la sua linea marziale. Lui è nel pieno delle sue facoltà marziali. Ovviamente si sta concentrando sul braccio, come anche io. Quindi siamo in situazione di parità. Lui si concentra sul braccio, io anche sul mio. È chiaro che lui mi può colpire con un pugno, ma lo posso colpire anche io. Siamo sempre in una situazione di pareggio. Però per non complicare troppo le cose, ci focalizziamo sulla leva. Vai. Tieni forte. Ci sei? Vai. Ok? Quindi facendo questo movimento, in questo caso, io non vado ad agire dal suo punto forte. Tieni il duro. Non vado ad agire dal suo punto in cui la sua testa è qui. Ma parto dal gomito. Quindi il gomito va giù e anche se lui tiene forte ormai è andata. Quindi si crea una leva al polso e lui, per non sentire dolore, è costretto a mollare fisiologicamente la leva. È chiaro poi che in un contesto più realistico mi arriva un pugno, blocco, colpisco. Il braccio è rimasto lì e vado ancora. E magari invece di aprire solamente adesso, che è una semplice dimostrazione, posso al tempo stesso bloccare e creare la leva che vi ho mostrato all'inizio, sempre forze opposte, invece che con la mano vado con il gomito. Questa dimostrazione, ragazzi, del principio che volevo spiegarvi oggi, esistono delle leve, chiamiamole, di serie B e delle leve di serie A. Ripeto ancora una volta che non è che sono inutili le leve che funzionano solo dopo aver distratto l'avversario. Però una leva ottimale è la leva che ci consente di applicare appunto la tecnica nonostante l'avversario abbia la mente focalizzata su non farsi applicare la tecnica. In questo modo voi potete lavorare su voi stessi, sulle leve che già allenate nella vostra pratica, perché potete rendervi conto che con piccoli aggiustamenti, piccoli accorgimenti, alle volte una leva di serie B può diventare di serie A. Quindi, ricapitolando, una leva ottima deve funzionare sempre, in ogni circostanza e non soltanto dopo aver distratto l'avversario con un pugno o con qualsiasi altra cosa. Bene fratelli marziali, questo era tutto, ditemi fra i commenti che cosa ne pensate, se vi piacciono questi video in cui andiamo proprio all'essenza delle cose, a principi che come avete visto sono universali, perché non è una prerogativa del Kenka Karate o del Kung Fu o di altre robe, ma sono appunto sempre le solite questioni di biomeccanica. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fra i commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando trovate in descrizione un sacco di link utili per sostenere il mio progetto, noi ci vediamo alla prossima e ciao!